Amici d'Ascolto in Visione di Teleuniverso, una buona serata e benvenuti a questo nuovo numero di Vista sul Golfo, la rubrica settimanale della nostra emittente dedicata al Sud Pontino, questa sera probabilmente dovrebbe essere vista sulla riviera d'Ulisse perché ci spostiamo un po' più a Ponente, questa sera protagonista di questa trasmissione è una delle località, forse uno dei borghi più belli d'Italia, naturalmente avete capito, parleremo di Sperlonga, di questo Capitello Mania che ormai è iniziata da circa un mese quando un pescatore amatoriale nella zona attigua alla villa imperiale di Tiberio, sulla spiaggia di Levante di Sperlonga, ha trovato per caso spuntare dalla spiaggia, dalla Renile, un Capitello Corinzio del primo secolo avanti Cristo. Naturalmente Sperlonga vive, gioca forza di turismo e naturalmente vuole fare leva sull'archeologia, anche su questo segmento del turismo per rilanciare anche la sua immagine. Ne parliamo con l'ultimo arrivato nella giunta di Armando Cusani a Sperlonga con il neoassessore ai beni culturali o qualcuno mi dice ai beni comuni, il dottor Stefano D'Arcancio. Buonasera Stefano, faccio fatica a darti del lei, visti i nostri rapporti veramente quasi trentennali e grazie, vista l'ora per la tua disponibilità. Grazie a voi, buonasera a tutti, grazie a Teolo Universe che ci ospita e per parlare in particolare della promozione del territorio ai fini turistici. Ecco, Capitello Mania, qualche giornalista, anche qualche media ha un po' fotografato quello che sta avvenendo. È stato ritrovato praticamente in questo reperto archeologico e naturalmente Sperlonga vuole utilizzarlo come un nuovo brand turistico per rilanciare la sua immagine turistica che nonostante tutto quello che sia successo resta ancora ottimale. No, noi un brand forte, già ce l'abbiamo, è che è la Riviera Turisse, perché quel tratto di costa, quel tratto di territorio è mitico proprio per la presenza del museo archeologico. Intanto vedete, insomma pressione, puoi continuare questa bellissima, diciamo, panoramica invernale di Sperlonga Stefano e qui vedete le immagini, adesso le vedete tra poco, del nostro Giuseppe Miele, del giorno in cui è stato portato alla luce ufficialmente questo Capitello che era spuntato, probabilmente, per le mareggiate dei giorni precedenti dalla spiaggia. Scusami se ti ho interrotto. Dicevo che il brand di questa zona è la Riviera Turisse e noi vogliamo scommettere sulla terra dei miti. Quindi questo ritrovamento è stato un momento importante perché rilancia il tema dei beni culturali, il rapporto alla promozione turistica. I beni culturali intese come risorsa anche attrattiva per lo sviluppo turistico di questo territorio, le cui potenzialità sono note per gli aspetti paesaggistici, per gli aspetti delle bellezze naturali, tuttavia c'è un altro ambito che merita grande attenzione, di grande valore attrattivo che sono i beni culturali ed in particolare l'archeologia. Stefano, che provi nel vedere queste immagini veramente bellissime? Non nascondo che in quel francente mi sono emozionato perché così dal vivo vedere uscire questa meraviglia è stata veramente emozionante per tutti quelli che c'erano perché man mano che scavavano si capiva che non era un capitello qualsiasi ma che aveva un valore, non sapevamo quale e quanto ma tutti ci siamo resi conto che è una cosa rara, non è molto comune, un capitello del genere aveva una sua particolarità e una sua specificità. Ecco, vogliamo anche dire una cosa, l'ho dimenticata, questa sera la trasmissione con il neoassessore ai beni culturali del Comune di Sperlonga la dobbiamo doverosamente omaggiare, un ricordo ad una persona, ad un incendio pubblico molto vicino al studio Puntino che è venuto purtroppo prematuramente meno, è scomparso la notte di Pasqua per un infarto. Il dottor Saverio Urciuoli, responsabile della soprendendenza archeologica delle belle arti e del paesaggio per le province di Latina, Frosinone e Rieti, i cui funerari ci sono stati proprio nei giorni scorsi, martedì a Roma. E il dottor Urciuoli che poi, manderemo in onda anche nella sua intervista, aveva detto da questo capitello può ripartire una nuova stagione anche economica per Sperlonga, è vero Stefano? L'effetto l'abbiamo visto immediatamente, l'effetto mediatico è stato molto ampio, è arrivato dappertutto, è arrivato addirittura nelle potropolitane di Madrid mentre noi stavamo facendo la conferenza, insomma ha avuto un eco straordinario proprio per la sua rarità e per la sua particolare bellezza. E non c'è dubbio che la vicenda del Capitello resta legata intimamente con, purtroppo, questa triste vicenda che ha visto purtroppo morire un grande protagonista di questa vicenda che è e rimane il dottor Urciuoli. Un personaggio molto vicino al territorio, io uso il singolare del Sud Pontino e soprattutto grazie anche alla sua intelligenza, e questa non è piageria Stefano, voleva bene a questo territorio, ai resti di questo territorio, lui che peraltro era laureato anche in arte medievale e soprattutto, io poi l'ho visto in quella conferenza stava molto bella che tu hai saputo organizzare presso l'aula consigliare, sapeva benissimo dialogare e colloquiare con i giovani, con le future generazioni, cioè sapeva far innamorare dei giovani di questa bellissima cosa che si chiama la storia, l'archeologia. Sì, questo è sicuramente stato un tratto distintivo del dottor Urciuoli, soprattutto quando si rivolgeva ai ragazzi in quella maniera e si sentiva... Queste sono le immagini, ti chiedo cura scusa, del Capitello nell'aula consigliare nei minuti antecedenti la conferenza stampa, è diventato quasi una star questo Capitello, fotografato in tutte le starse. Quel giorno Stefano, a quella conferenza stampa, c'erano più fotografi e cini operatori che non cittadini comuni. Sì, il richiamo è stato forte, l'attenzione è stata forte, ma giusta, perché nel Fialetti noi ci siamo trovati di fronte a un reperto archeologico che è oggetto di studio, d'attenzione e sarà ancora di più, perché è una rarità di Capitelli, perché francamente i Capitelli ne troviamo un po' dappertutto di Capitelli, ma questo è un Capitello davvero speciale che richiede un ulteriore approfondimento al Tuorio di Studi e aprirà sicuramente un dibattito tra gli addetti ai lavori... Sì, un dibattito anche scientifico e culturale, perché questo Capitello, che non è italico, la sua produzione è sicuramente greca, è ellenica, ma addirittura qualcuno sostiene che arrivi la sua scuola sia addirittura asiatica, sia dell'Asia minore, quindi è ancora più antico. Io non mi avventuro perché non sono un esperto, questo è il mestiere degli archeolici, è il mestiere dei storici, dei ricercatori, ma dalle prime analisi, delle prime verifiche, in qualche sommario già si intravede chiaramente che stiamo parlando di una cosa importante, questo adesso a breve noi partiremo con il restauro e quindi lì ci saranno ulteriori analisi, ulteriori sviluppi, potremmo definire meglio la portata e la valenza culturale e archeologica. Ho riscontrato dopo questa scoperta, ripeto, avvenuta in maniera molto casuale da un pescatore amatoriale di Sperlonga, peraltro un giorno che voi avete premiato, che si chiama e faluto Francesco Rendinaro, una sorta di riannamoramento da parte della comunità di Sperlonga nei confronti della propria storia, del proprio passato e in aula consigliare, e questa è la domanda, c'erano molti cittadini comuni che non fanno, i giornalisti non fanno gli amministratori, ma cittadini che fanno tutt'altro nella vita e hanno detto guai a mandare via questo capitello da Sperlonga, se no rifacciamo quello che è successo nel 1957, qui rispolverò un po' il libro della storia di Sperlonga di quegli anni, si stavano facendo gli scavi nella villa imperiale di Tiberio e i camion erano già pronti per portare quei reperti che erano stati appunto riportati alla luce a Roma e le donne, le donne di Sperlonga, anche in stato di gravidanza, pronte a partorire, si misero davanti a quei camion e lì nacque Stefano Viccelo, il museo archeologico. Sì, io credo che il merito del ritrovamento del capitello sta anche in questo, per il fatto di aver, vuol dire, smossa, rinverdito la memoria storica del paese e quindi questo è stato un fatto estremamente significativo e positivo perché... Io mi sono emozionato quando quelle casalinghe, quelle massaie hanno detto attenzione non mandate via questo capitello, se no facciamo come è successo alle nostre nonne 60 anni fa, ci incateniamo davanti i camion. Sì, questa è una cosa bellissima che hanno fatto, ancora una volta il popolo Sperlongano dimostra che quando c'è da difendere il paese è compatto, è unito, ma che investe tutti i ceti sociali e quindi non è soltanto l'uomo di cultura, ma anche come dicevi tu la massaia, l'operaio, i lavoratori, di fronte a questi eventi hanno riscoperto la loro memoria storica, oppure hanno molti purtroppo di quelle generazioni non ci sono più, ma i giovani... Siccome gli Sperlongani è un popolo molto intelligente, io dico pure che c'è anche una regione di questo riannamoramento perché poi gli Sperlongani che vivono praticamente 8-9 mesi all'anno di turismo sanno che quel capitello porta turisti, porta turisti, porta movimento, quindi c'è un'economia che ritorna un po' circolare Stefano. Sì, non c'è dubbio, ormai credo che finalmente possiamo sfadare quel luogo comune che con la cultura non si mangia, invece noi stiamo capendo che la cultura si mangia anche, nel senso non voglio mercificare la cultura, ma coniugare cultura, paesaggio, ambiente e sviluppo economico che è possibile. Noi siamo la sintesi, noi abbiamo avuto una sfida Sperlonga proprio su questo, sfadando dei luoghi comuni. È possibile coniugare lo sviluppo economico con la tutela della storia, del paesaggio? Noi abbiamo detto sì e l'abbiamo dimostrato concretamente per il paese per come oggi è, lo si vede e non a caso se siamo il borgo più bello d'Italia, non è, la natura ci ha dato tanto, ma questo vuol dire che anche noi l'abbiamo curata e ogni giorno ci battiamo. Mi è piaciuta una frase della tua conferenza stampa in cui tu hai detto questo capitello ci deve aiutare a recuperare la nostra memoria storica, perché questo percorso non è stato ancora completato? Lo confermo, lo confermo perché questo è un deficit che noi vogliamo colmare a più presto, perché Sperlonga è conosciuta moltissimo dal punto di vista paesaggista, dal punto di vista naturalista, dal punto di vista del panorama ammozzafiato che c'è, indubbiamente è quello che attrae più fortemente tutti i quelli che frequentano Sperlonga. Però, però, accanto a questo noi abbiamo una storia straordinaria, ricchissima da poter proporre non solo a livello locale, regionale, nazionale, ma anche a livello internazionale. Non ci dimentichiamo che noi abbiamo Ulisse, è il mito più conosciuto al mondo e lì noi abbiamo le gesta di Ulisse, abbiamo l'odissea di Marmo ed è una cosa straordinaria che dobbiamo valorizzare perché, nonostante questo museo abbia raggiunto la bella cifra, diciamo, di oltre 50.000 presenze quest'anno, dovuta in gran parte a un circuito scolastico che è molto, diciamo, presente e quindi settimanalmente abbiamo decine e decine, centinaia di studenti che visitano il museo. Ma la portata, la valenza di questo museo, proprio per il mito di Ulisse, per il gesto di Ulisse e poi di fronte alla Maga Circe con Cisceo, veramente noi viviamo la storia e possiamo far vivere la storia ai tanti che visitano il territorio. Cosa bisogna fare, a cominciare dall'ente comune, per proprio concretizzare quello che tu, poc'anzi, stai dicendo? Ma intanto noi vogliamo adesso, come dire, mettere a reddito questa scoperta del Capitello. del Capitello, mettere a reddito nel senso che vogliamo restaurarlo insieme alla sovrintendenza e proprio grazie al dottor Ruccioli che non smetteremo mai di ringraziarli, prima di morire aveva già predisposto il progetto. E qual è questo progetto? Riuscire a fare a Sperlonga, non solo, posso assicurare i cittadini tutti che il Capitello non uscirà da Sperlonga. Ah, questa è una bella notizia. Non uscirà ma sarà restaurato proprio a Sperlonga, quindi si farà un restauro lì e si realizzerà un laboratorio didattico per l'archeologia, per il restauro dell'archeologia. Questo Capitello dove potrà essere ammirato nel momento in cui saranno ultimati questi interventi di restauro? Sì, adesso il Capitello è conservato, è sott'acqua, in un ambiente sott'acqua perché deve restare sott'acqua fin quando non iniziano i lavori. Acqua marina o acqua dolce? Acqua dolce, che cambiamo ogni tanto. Però noi avevamo un appuntamento purtroppo con il dottore Urciole per il 9 aprile, proprio il 9 aprile, insieme a Di Mario, che è l'archeologo responsabile della provincia di Latina. Antonello Di Mario, che peraltro si è all'ascolto in visione, lo saluto, è di Terracina, persona che è responsabile della superintendenza per questo comprensorio. Anche lui è una persona straordinaria, che si sono calati nella realtà. Ecco, una delle caratteristiche di Urciole è stata proprio questa, di non aver mai dato mai impressione di un sovrintendente austero, che si è calato proprio nel territorio e non ha guardato soltanto Sperloga, Sperloga perché ovviamente è quella che dal punto di vista archeologico richiama di più, però è stato a San Felice, è stato a Mentorno, l'ultima sua settimana, l'ultima società, l'ha trascorsa nel sud di Montino. Gaida per esempio la amava tantissimo. Quindi ecco, questo suo calarsi nella realtà teoriale è stato un segno distintivo e spero che continui verso questa direzione. Tra un po' sentiremo l'ultima intervista che il dottor Combiando Straveri-Urciole ha rilasciato a noi, ma a tutti i giornalisti del comprensorio in occasione della tua conferenza stampa, ha detto, adesso faremo sentire l'intervista che è stata purtroppo l'ultima, ora bisogna doverarsi, oltre a restaurare questo capitello, anche a iniziare, qui ci vogliono purtroppo i soldini, una campagna di scavi nella zona sottostante la villa dell'imperatore Tiberio e probabilmente sicuramente anche a mare. Naturalmente Stefano, qui c'è bisogno di tutto, tutte le istituzioni, il comune e la sua... Guarda, Severio, questo ha fatto bene a pormi questa questione perché forse è il regalo più bello che Urcioli poteva lasciarci prima di morire. Lui ha predisposto tutto, insieme a Di Mario, il suo più stretto collaboratore, nella Fattispecie, che aveva predisposto tutto. Lui pensava al laboratorio didattico per il restauro dei beni archeologici, ha pensato anche a questo, aveva già fatto fare dei preventivi per le attrezze di nuove tecnologie applicate ai beni culturali. Anche perché prima di scavare, lui l'ha spiegato benissimo, bisogna fare dei saggi, bisogna studiare quel territorio, il suo passato, cioè prima di togliere un metro cubo di sabbia bisogna capire là sotto cosa ci potrebbe essere. Lui infatti puntava a un georadar per vedere se c'era del materiale interessante e tutti sono convinti che c'è, perché abbiamo tante testimonianze anche di turisti, di quelli che chiamano, diciamo, che vanno i subacchi che ci sono tanti a Sperlonca, abbiamo tutta una serie di segnali che lì c'è materiale ancora da ritrovare e Urcioli proprio su questo era convinto che quel capitello da solo non poteva starci e sperava di trovare. Lui ha definito questo, è uno dei tanti figli di questa villa imperiale, cioè questo capitello ha tanti fratelli ancora dispersi. Ha usato anche questa metafora molto bella peraltro. Questa, diciamo, è stata detto lì chiaramente da Urcioli e anche da Di Mario e quindi c'è già una convinzione che qualcosa troveremo. E quindi lui ha pensato anche a questo, diceva Urcioli prima, di lasciarci e Di Mario adesso sta portando avanti quelle idee progettuali. Indico una, per esempio, lui stava facendo realizzare un disegno del capitello che voleva metterlo sulla sua carta intestata, per esempio. Addirittura. E questo l'ha detto alla dottoressa Marisa De Spagnolisi che tra l'altro ha fatto anche imposto su questo e ce l'hanno raccontata anche lì durante i funerali. Sentiamo tra poco la dottoressa Marisa De Spagnolisi che peraltro è l'ultimo neoacquisto dell'amministrazione comunale di Sperlonga, del sindaco Armando Cusano, è stata delegata ai beni archeologici. Ecco, come si dice, riavvolgiamo il nastro di qualche settimana, andiamo nell'aula consigliare del comune di Sperlonga, alla conferenza stampa di presentazione di questo capitello e noi abbiamo interessato quel giorno proprio il compianto Saverio Urcioli. È stato sino a domenica notte, domenica di Pasqua, purtroppo un infarto lo ha privato a tutti noi e soprattutto ai suoi cari e alla sua famiglia, responsabile della superintendenza archeologica, delle belle arti, del paesaggio di ben tre province del Lazio, Latina, naturalmente Frossinone, perché lui diceva a Dine Frossinone non c'è discontinuità sotto l'aspetto archeologico e poi la provincia Sabina, quella di Rieti. Sentiamo il dottor Urcioli in questa breve e necessaria intervista. Un giorno importante, è bello, siamo qua a presentare questo capitello ritrovato per caso sulla spiaggia di Sperlonga. Un capitello che proviene dalla Grecia con un occhio attento anche a quanto si stava realizzando nel vicino oriente Asia e quindi un capitello che, ad elà della datazione che stiamo ancora cercando di individuare esattamente, denuncia comunque un grande commercio, una grande attività commerciale dalla Grecia verso l'Italia, verso questa terra, verso una terra che custodiva, che ospitava all'epoca la famosa villa di Tiberio. Una delle più belle ville della zona, non l'unica e quindi di quelle ville ad ozium, come appunto indicavano i romani, proprio che doveva pertanto rappresentare il bello in senso più lato, il bello come mediazione filosofica tra l'umano e il mitologico e il mistico, se vogliamo. Quindi è una scoperta importantissima, una scoperta che impegna comunque la sovrintendenza nelle attività successive di restauro, di valorizzazione, dovremmo trovarne il luogo adatto. Quindi è un lavoro che iniziamo molto volentieri e puntando ad un risultato il più bello possibile. Innanzitutto dobbiamo restaurarlo e sistemarlo per la valorizzazione. Certamente la sovrintendenza, voi sapete benissimo, non ha più luoghi della cultura, nel senso che non ha più strutture per la valorizzazione. Quindi si dovrà necessariamente affiancare, rivolgersi ad altri istituti, sempre del Ministero, per poterlo valorizzare. Siete tranquilli che comunque il Capitello ha partito da una realtà di Sperlonga. So quanto gli abitanti del luogo ci tengono ai ritrovamenti, tant'è che loro stessi hanno determinato la costruzione e la realtà del museo attuale. Quindi è sicuramente un ritrovamento che rispetterà quello che sono stati finora gli orientamenti del Ministero. Assessore d'Arcangelo, adesso sentiremo anche la nuova delegata ai beni archeologici e poi concluderemo questa puntata. Io so, ascoltando e colloquiando con alcuni imprenditori e addetti ai lavori, che grazie a questo Capitello già c'è stato un segno più nelle presenze al Belghiero di Settivio e Sperlonga, per esempio a Pasqua. Beh, questo francamente non potrei sottoscriverlo, ma certo è che noi abbiamo avuto una presenza straordinaria, siamo stati presi d'assalto e abbiamo dovuto affronteggiare questo assalto. Questo sì, l'ho notato, però adesso le percentuali non saprei... Un segno più ho detto, non ho detto quanto, però ci sono stati più turisti, più presenze, più curiosi rispetto agli anni scorsi. Tutti volevano vedere questo Capitello, Fida, a dimostrazione anche di una certa sensibilità, di una certa maturità dell'opinione pubblica nei confronti del problema. Indubbiamente c'è stato un richiamo, un richiamo forte. Grazie ai media. Grazie ai media, soprattutto perché è stata fatta un'ottima campagna mediatica. Noi non l'abbiamo programmata, ma insomma noi abbiamo anche, diciamo, Irene che, come ha detto in stampa, è delle relazioni esterne del Comune, credo che abbia fatto un buon lavoro. Peraltro ringrazio e saluto Irene Chinappi, la portavoce del Comune. Prima di sentire, e poi devo chiudere, tu hai fatto un annuncio in questi giorni per moltiplicare gli sforzi per il recupero di un altro sito archeologicamente importante. Siamo sul litorale di Ponente che è Villa Prato, è una villa romana del secondo fecolo a.C. Che significa Stefano? Significa, ecco, non solo Villa Prato, è un'altra, diciamo, realtà. Che gli studiosi, gli archeolici ci dicono, c'è una letteratura sterminata su questa, anche di archeologi stranieri che hanno rilevato in questo ambito del territorio una importante presenza romanica. La villa è rara ed è particolare perché è una villa vissuta, una villa di tipo rurale, connessa ad una importante attività produttiva, una sorta di base logistica da cui partivano poi i prodotti della terra verso le antiche, diciamo, le antiche ville romane sparse sulla costa. Quindi c'è un'importanza... Quindi era una sorta di azienda agricola che praticamente serviva, approvvigionava le ville patrizie esistenti a Fornia, a Greta. Mi rispondi però, Sperloca come ente e come comune non può fare da tutto da solo. A chi vi volete rivolgere per concretizzare questi bellissimi sforzi? No, l'appello è chiaro, è rivolto innanzitutto al Ministero dei beni culturali. Anche se adesso c'è una vacazio a livello governativo. Perché noi abbiamo avuto una sospensione dei lavori, perché noi eravamo già partiti, abbiamo ottenuto in passato 1.116.000 euro, un importante finanziamento, per gli scavi, per la promozione e la valorizzazione e il recupero di questi beni. Ora questa sospensione è dovuta a motivi non attinenti all'amministrazione, ma per vicende del giudiziario che hanno chiarito, anche l'ANAC ha chiarito questa vicenda, che noi possiamo continuare i lavori e recuperare questo straordinario patrimonio che è accanto alla Villa di Di Berio, insieme alla Villa Prata, ma ha ben sedici siti che noi abbiamo censito. Dobbiamo formare un circuito a Sperlonga. Sperlonga è un museo a cielo aperto. Ecco, l'ultimo contributo per questa interessante puntata di Vista su Golfo, il neoacquisto, tra virgolette sotto l'aspetto calcistico, ma è una metafora, non si intende, l'ultima nomina del sindaco Cusani l'ha beneficiata l'ex direttrice del museo archeologico di Sperlonga. La dottoressa Marisa De Spagnolis, l'abbiamo sentita nei giorni scorsi, stava prendendo il treno alla stazione ferroviaria di Formia, non ce la siamo lasciata sfuggire, sentiamo in questo straccio di intervista che dura meno di un minuto, lei dice, io voglio dare una mano a questa bellissima città, a questo bellissimo volgo. Sediamo l'intervista. Io sono legatissima a Sperlonga per aver fatto anche il direttore del museo di Sperlonga per tre anni e questo incarico penso che sia una possibilità, un'occasione per poter essere utile con la mia professionalità a studi, a esaminare progetti e anche futuri scavi della città. Sono sicura che il futuro degli scavi di Sperlonga viene dal mare e tantissime sculture aspettano solo di essere recuperate. Noi sappiamo già da documenti che in mare ci sono colonne che ci attendono e poi mancano all'appello alcune statue che dovrebbero essere, che fanno parte di gruppi e che mancano. Se abbiamo un gruppo e abbiamo solo un elemento del gruppo, dove sono gli altri elementi? Sono nell'acqua, sono sicuramente ancora in spiaggia, sotto la sabbia, sia la sabbia del mare, sia la sabbia nei pressi della grotta. Ha detto tutto lei, a questo punto bisogna rimboccarsi le mani che ciascuno per il proprio compito si dia da fare perché l'archeologia, come dice, dà il pane, produce ricchezza. Stefano, ci dobbiamo fermare qui. Io ti devo ringraziare perché dopo tantissimo tempo un rappresentante dell'amministrazione comunale di Sperlonga è venuto a parlare in uno studio televisivo, dopo le note vicende giudiziarie di Tiberio, l'inchiesta giudiziaria è tanto per intenderci. Domanda facile facile, il peggio è passato perché stasera sei qui? Ma no, noi ancora stiamo pagando le conseguenze di indagini che hanno oggettivamente rallentato l'azione amministrativa, ma non ci siamo fermati, credo che però gli eventi di questi giorni stanno dimostrando che una serie, diciamo un castello accusatorio sta grollando a pezzi a pezzi. E poi c'è una classe dirigente che vuole darsi da fare. Cusani sta uscendo, secondo me, alla grande, ancora una volta dimostrando la sua estranetà completa ad alcune vicende. Abbiamo fiducia nella giustizia e quindi siamo in cammino di nuovo per riportare Sperlonga. E si deve essere in carreggiata. Sperlonga, a superiore che ha sempre seguito. Ti faccio una richiesta, la faccio pubblicamente, a questo punto la faccio a te che sei uno strettissimo collaboratore e assessore del sindaco Cusani. Aspettiamo che il sindaco Armando Cusani, la sua prima apparezione televisiva, la faccia qui, a Teleuniverso, dopo quello che è successo nel gennaio del 2017. Mi affido a te, soprattutto per sentire anche l'attuale ed ex presidente della provincia, stare sindaco. Non ho questo potere, ma ci proverò. Però ci proverai e noi come redazione, come gruppo televisivo, già ti ringraziamo, diciamo, sin d'ora. Ci dobbiamo fermare perché veramente ho busato e sono andato oltre il tempo, di solito il giovedì sera a mia disposizione. Allora, dico soltanto in maniera flash la puntata, per chi è interessato, la può rivedere dopo domani mattina, sabato, intorno alle 10 e mezzo su Teleuniverso, lo dico anche a te a beneficio Stefano. Così come la trasmissione può essere poi vista sul nostro cliccatissimo canale YouTube di Teleuniverso TV già nelle prossime ore. Naturalmente la prossima puntata di Vista su Golfo, sempre il sorvogliato, come dico sempre, tornerà giovedì prossimo alle 22.35, minuto più, minuto meno, qui sempre su Teleuniverso. Grazie ancora, grazie ancora al neo-assessore ai beni culturali del comune di Sperlonca, Stefano D'Accangelo. Buona ferata e ancora grazie. Grazie a voi e buonasera a tutti.